Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo che faranno i prossimi 10 giorni, ossia all'incirca fino a circa il 22 di febbraio, quattro distinte fasi. Il primo periodo, 13-14 febbraio, il nucleo di aria polare è giunto martedì sulle regioni adriatiche e ormai si sarà propagata tutta l'Italia, ma porterà freddo intenso soprattutto sulle regioni del medio adriatico al sud perché qui soffieranno geli di intensi venti di bora. Gli effetti, i fenomeni saranno modesti solo qualche debole nevicata sulla Calabria e sul nord-est della Sicilia fino a quote molto basse. Freddo sempre tra 13-14 di notte e nel primo mattino anche sul nord Italia per temperature prossime allo zero. Seconda fase, 15-16 febbraio, ritorno all'alta pressione nord-africana sul centro-nord dell'Italia, quindi bello sul centro-nord dell'Italia con temperature in rialzo, mentre sulla regione meridionale arriva un debole altro nucleo di aria a fredda dai Balcani con deboli nevicate fino a bassa quota sulla Lucania, sulla Calabria e sul nord-est della Sicilia. Terza fase, tra il 17 e il 21 febbraio, l'alta pressione nord-africana resiste sulla penisola ma in lento indebolimento giorno dopo giorno per l'arrivo di un vortice di bassa pressione dalla Spagna e in movimento verso la Sardegna e qui verso la Sicilia. Quindi l'alta pressione si indebolira, il vortice di bassa pressione richiamerà venti più freschi dai Balcani, i quali faranno diminuire le temperature fino quasi a portarsi al di sotto della media su gran parte dell'Italia intorno al 21 febbraio. Non vi saranno fenomeni di rilievo, ma attenzione, intorno al 22 qualche modello, soprattutto quello europeo, vede una nuova ondata di freddo in arrivo dalla Russia da qui verso i Balcani. Potrebbe essere ancora un ritorno dell'inverno, i cui sviluppi ancora non possiamo individuarli, però c'è questa probabilità, questa possibilità. Che validità può avere questa previsione a 10 giorni? Circa il 65%. Quindi